All'inizio del Novecento ci sono una serie di avvenimenti che danno una vera e propria svolta al panorama culturale. Sono gli anni in cui il nazionalismo cresce sempre di più, ma sono anche gli anni in cui le nazioni entrano sempre più in contatto e lo fanno anche attraverso questi grandi padiglioni che nascono sulla scia dei magazzini orientali in cui si espongono delle opere che vogliono essere soprattutto come oggetto di arredo e quindi funzionali, estetiche e funzionali. Pensiamo alle prime esposizioni come quella di Torino, poi a Monza, Milano, pensiamo a uno scultore come un architetto come Antonio Gaudì oppure in Italia come Ernesto Basile, per poi andare in Germania con la nascita dell'Aeg, ad esempio, la prima industria che realizza una vera e propria produzione in serie con il primo bollitore elettrico, la macchina da scrivere Isetta, l'America che comincia a importare novità come ad esempio la Chevrolet che si pone in concorrenza con il modello T di Henry Ford e fino ad arrivare poi agli anni venti quando si comincerà a fare un punto della situazione nel cosiddetto international style in America. Quindi sono anche gli anni in cui la guerra, se da un lato destabilizza la società europea, dall'altro consente la nascita di novità e veri e propri must, come ad esempio pensiamo alla Mocca Bialetti di Alfonso Bialetti e poi nel post-guerra, cioè dopo la seconda guerra mondiale, le industrie belliche che si convertono e quindi la conseguente nascita dell'Isetta, la Vespa o la Fiat 500. Quindi un design che man mano matura sempre di più nel corso del Novecento.